sii cazzo sii 3 a 1 alla ternana 3 a 1 alla ternana 3 a 1 alla ternana non vincevamo mai sto cazzo di campo di merda scusate non vincevamo mai la ternana con noi sembrava venire a madrid magister united e invece quest'anno dopo il 5 precedenti la ternana battuta sia l'andata che a ritorno sia l'andata che a ritorno sia l'andata che a ritorno grande palma dai cazzo anche se abbiamo un portiere in merda che ci ha regalato il gol alla ternana però buonissima prestazione i primi 30 minuti boom 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 bonni che bonni un piccolo adriano ve l'ho detto sempre se migliora la finalizzazione questo qua diventa veramente forte benissimo anche bene che decimo gol procura anche l'autorete di casa sola loro praticamente hanno fatto il gol sul regalo di quel coglione del portiere che abbiamo il rigore che secondo me era un po dubbio ma comunque vabbè l'ha dato e il palo di raimondo basta poi hanno fatto sì cross pericolosi mi ha impressionato con l'uperini che oltre a gol è ovunque l'uperini veramente giocattista di quantità e di qualità mi è piaciuto per loro e raimondo anche se oggi non è in giornata ma si vede che un giocatore che ha qualità per il resto di Stefano che metteva sempre questi cross ma per il resto la ternana in difesa è veramente imbarazzante certo campo soffriva molto il pama il primo tempo praticamente poteva anche fare un'altra tre finita 3 a 1 ma poteva finire anche 4 a 1 sì loro hanno sbattito il gol siamo 4 a 2 dai il nostro talone da killer rimane il portiere e i accoperi centrali la prossima col Brescia è in difida Circati per cui che Dio ce la mandi buona con Balo Grosorio che Dio ce la mandi buona che Dio ce la mandi buona che dire ancora 3 vittorie alla Serie A su di 6 a 7 vittorie ne mancano 3 ora c'hai il Brescia c'hai la Ferrapi poi vabbè dopo la sosta pensiamo al Brescia e poi pensiamo alla Ferrapi fare più punti possibile sempre forza palla abbiamo sbattato il tabù libero liberati 3 a 1 dai ragazzi meno 3 alla A